Istituita la giornata dei Colli del Veneto, istituita dalla Regione appunto del Veneto, una delle presentazioni a Cison di Valmarino. Valorizzare i Colli Veneti, il loro patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo e denogastronomico. Con questa volontà è nata la Giornata Regionale per i Colli Veneti, progetto attuato dalla Giunta Regionale del Veneto in collaborazione con Unpli Veneto, una collaborazione che dimostra il prezioso e fondamentale legame delle Proloco con il territorio. E noi delle Proloco non potevamo non essere della partita perché nelle colline svolgono la maggior parte delle loro attività. Io dico che è il core business delle Proloco, dove sono attive con tante manifestazioni, dove fanno promozione turistica, dove fanno animazione del territorio e quindi collaboriamo con tutti noi stessi e con grande entusiasmo a questa iniziativa della Regione. Presentato ufficialmente attraverso otto incontri pubblici in tutta la Regione, l'ambizioso progetto ha la capacità di stimolare la collaborazione tra enti, associazioni e realtà economiche per la promozione di un territorio unico al mondo. La sfida UNESCO che questo territorio ha raccolto è stato un primo grande segnale che ci ha obbligato a fare squadra e a fare rete. E questo è un secondo grande input verso l'obiettivo di promuovere il territorio, valorizzare il territorio e anche difenderlo in un'ottica di squadra perché il territorio lo merita e noi abbiamo l'obbligo di lavorare insieme per farlo crescere. Per chiunque che oggi arrivi a Cison e veda una giornata meravigliosa, quasi proprio di fine inverno, un sacco di persone che scoprono borghi, meandri ed ambiti che uno neanche si immagina. E poi soprattutto anche questo momento di riflessione su quello che può essere il valore delle nostre colline. Oggi veramente valeva la pena dare merito a chi in Regione ha avuto l'idea di istituire questa giornata dei colli, la prima domenica di primavera di tutti quanti gli anni, ma soprattutto di chi nello stendere un po' questa iniziativa ha saputo riassumere in una pagina tutti i grandi valori culturali, di tradizione, di paesaggio, di futuro, di sostenibilità che queste giornate d'ora in poi vorranno portare con loro.